I consiglieri d'opposizione Lorenza Colò, Giovanni Rullo, Andrea Ravagni, Bruna Todeschi e Mauro Ottobre hanno replicato le dichiarazioni date dal sindaco Alessandro Betta durante il Consiglio Comunale di lunedì in riferimento al momento difficile che sta attraversando l'amministrazione arcense. Il sindaco non sa più che pesci pigliare, dicono, per giustificare il completo fallimento di questa sua amministrazione che perdi pezzi sia nell'ambito politico sia in quello della dirigenza comunale. Ci è dispiaciuto molto apprendere della situazione del segretario comunale, momentaneamente assente per problemi personali e di eccessivo stress, a cui auguriamo un pronto rientro nella sua posizione lavorativa. Il sindaco non può certo imputare questa situazione ai consiglieri di minoranza, proseguono i consiglieri nella nota, e dovrebbe analizzare nel profondo cosa non funziona nel suo modo di amministrare e gestire il Comune. Quanto ai toni alti, che a volte vengono a noi imputati, se tali si possono definire, non sono altro che una mera conseguenza dell'atteggiamento di chiusura avuto nei nostri confronti fin dall'inizio della Consigliatura.